In compagnia del dottor Troise stiamo ora arrivando al momento clou, forse quello più interessante per qualcuno, anche il più pauroso, quello dell'intervento. So che lei ha preparato per noi del materiale, qualcosa abbiamo anche noi di repertorio. Questa è un'animazione, dottor Troise? Questo è come avviene un intervento di plastica. Poi vedremo proprio quello reale, fatto con le sue mani. Questo qui, ecco, questa è la valvola insufficiente, quello sbuffo rosso. Quello sbuffo cos'è? Il sangue che torna indietro. E questo è un prolasso, il lembo posteriore che prolassa, il cuore poi viene fermato. Vedete, ci sono delle corde rotte, vedete quelle due cordine. Sì, ma andiamo per gradi. Lei è entrato attraverso una sternotomia? Questo è un intervento, un'animazione, quindi immaginiamo una sternotomia normale. Di essere già dentro. Sì, l'approccio. Di essere già, di aver già tagliato il cuore. Esatto, siamo dentro sulla mitrale. È stata asportata la parte provassante. Circolazione extracorporea. Circolazione extracorporea. La circolazione extracorporea permette di fermarlo. Esatto. E di evitare che ci sia il sangue che circoli dentro. C'è una macchina a cuore e polmoni che sostituisce in quel momento. Anche perché col sanguinamento voi non avreste una visione. È impossibile entrare in un cuore. Esatto. Bisogna fermarlo, drenare il sangue in questa macchina che lo sostituisce a una pompa e anche i polmoni perché cuore e polmoni, come le sa, lavorano insieme. Qui è stata resecata una parte di lembo della mitrale che prolassava perché aveva delle corde rotte. Applicato un anello. Viene sempre rinforzata la plastica. Viene sempre poi, diciamo, solidarizzata con un anello. Ci sono stati chirurghi che non hanno usato l'anello. Hanno usato anelli di pericardio. Ma si è visto chiaramente dalla letteratura che poi non dura. Qui viene testata con dell'acqua che viene iniettata e la valvola tiene. Quindi non c'è il rigugino. Poi il cuore viene fatto ripartire. Ecco, vedete, la valvola qui si apre e si chiude perfettamente. Cioè i due lembi vanno, si dice, a coaptare l'uno sull'altro senza più rigugino. Si deve proprio sigillare in sostanza. Esatto. Non perde più. Questo è un tipico intervento di plastica riparativa visto attraverso un'animazione. E la riparazione, la plastica può durare parecchi anni? Sì, la plastica può durare. Se ben fatta? Oggi una plastica ben fatta si sa che può anche durare tutta la vita. Tutta la vita. È chiaro che lavoriamo su una valvola patologica, quindi con una malattia degenerativa. Quindi noi la riportiamo alla condizione di prima... Di partenza. Prima che perdesse, ma sempre patologica rimane, quindi può anche darsi che dopo anni ritorni a perdere. Però normalmente, proprio perché noi facciamo dei gesti anche di rinforzo, oltre che riparare, per esempio, la funzione dell'anello, si è visto che una plastica ben fatta può durare tutta la vita. Ed è importante perché questo significa, tornando alla terapia anticoagulante, una vita assolutamente normale. 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 Con quei risultati molto incoraggianti che diceva lei, di salute sovrapponibile a quelli di una persona sana. Esatto, si è visto che se il cuore era già dilatato... Eh, a proposito, ecco, se il cuore si è già un po' sfiancato... Esatto, se siamo in una fase della curva ancora corretta, del timing corretto, il cuore, dopo già alcuni mesi, in qualche caso dopo un anno o due, torna alle dimensioni normali. Quindi il soggetto è una malattia che io considero guaribile, il soggetto guarisce. Molto interessante. Ecco, bella anche questa immagine, vorrei che la regia la mostrasse anche al nostro pubblico. Questa è la chirurgia mitralica in mini-invasiva. Sì. Ce la spieghi perché lei, diciamo che è stato uno, insieme alla sua equipe, insieme anche al primario che l'ha preceduta, ricordo il professor Quaini. Certo. In poliambulanza. Siete stati proprio i primissimi a parlare di una cosa che all'epoca sembrava quasi impossibile. Qualcuno diceva meno sicura, perché se non c'è un'apertura adeguata non si potrà ottenere lo stesso buon risultato. È informatissima. Guardi, mi ricordo che nel 98 fummo tra i primi ad eseguire una serie abbastanza importante di interventi in generale, sia ortici che mitralici. In chirurgia mini-invasiva venne da noi un chirurgo americano che si chiamava Cosgrove, che era un po' in quel momento il propugnatore di queste metodiche. Vedo che è ben informata. Siamo stati veramente tra i primi. Poi questa chirurgia mini-invasiva ha avuto varie fasi. C'è stata una fase di decremento dovuta al fatto che si pensava che non fosse particolarmente utile, se non per motivi cosmetici. In effetti poi, con il miglioramento dei dispositivi, della tecnologia, ci sono state date, sono state date a noi chirurghi delle possibilità per poterla riprendere e farla con miglior tranquillità e successo. Si sono visti anche benefici proprio clinici per il paziente. Questa è una bella immagine perché fa vedere sulla sinistra quello che accade con un approccio normale. Si taglia lo sterno, il centrale è un bel taglio ovviamente. Sappiamo che purtroppo arreca un po' di dolore nel post-operatorio. Si chiama sternotomia totale. La ripresa è un po' dura. Purtroppo ci sono interventi che vanno fatti così, ma ancora oggi, tutti i giorni si fa, per carità, anche in quel modo. Quindi non voglio far passare un falso messaggio che se uno fa la sternotomia totale è un dramma, ma dove possibile, perché alcune cose si possono fare. Come vedete, alla destra invece, attraverso un approccio laterale, qual è il vantaggio? Che lateralmente noi abbiamo gli spazi intercostali, cioè la natura ci ha dotato di costole e ogni costola è divisa dall'altra da uno spazio. Quindi attraverso una piccola, si chiama mini-toracotomia, cioè un'incisione laterale del torace, attraverso lo spazio, quindi senza toccare le ossa, allargandolo un po', si parla di tagli di 7-8 cm, si può intervenire lo stesso. E' chiaro che è una chirurgia più impegnativa, che richiede conoscenze e esperienze particolari, ci si aiuta con la scopia, quindi si introduce un'ottica videoscopica. Che vi allarga, diciamo, il campo visivo. E quindi di vedere nel monitor molto ingrandito quello che stiamo facendo, si può lavorare per visione diretta attraverso questo piccolo buco, ma addirittura guardando il monitor con degli strumenti particolari molto lunghi. C'è un'immagine dopo, sempre esatto, dei disegni che fanno vedere esatto a sinistra l'incisione, vedete che piccolo taglio. E questo è cosa avviene col paziente sul tavolo operatorio. C'è un cuscino che posteriormente solleva, per poter lavorare comodi, noi chirurghi, il lato destro, perché si accede da destra. Piccolo divaricatore, si introduce un dispositivo che è l'ottica, quella è la videoscopia. E poi attraverso questa noi possiamo, con degli strumenti molto lunghi, sono strumenti di 40-50 centimetri, quindi ci vuole un certo addestramento per poterlo fare, possiamo fare quello che invece... Quindi diciamo che questa è la chirurgia che tutti preferiscono, ma che però non è ancora a pannaggio di tutti. Non è fattibile in tutti i pazienti, ma siamo sempre... Non tutti i centri possono permettersi. Non tutti i centri, ma nemmeno tutti gli interventi possono essere fatti così. Ma ecco, questa è un'altra curiosità, cioè non è quindi una scelta per dire... Il paziente dice, no, io voglio la mini-invasiva. Chiaramente lui la pretenderebbe, ma... Sì, spesso il paziente lo chiede, è chiaro che se si trova nel posto giusto, poi il buonsenso ti farà orientare sulla scelta. Perché? Faccio un esempio. Un paziente che ha un'insufficienza mitralica severa può richiedere una plastica riparativa piuttosto semplice, ma anche una plastica riparativa molto complessa, con più gesti articolati. In qualche caso può essere opportuno una visione, un campo operatorio più ampio, preferendo il successo della plastica a quello dell'incisione. Che non è poi solo un aspetto estetico, sicuramente, un taglio minore in una posizione... Abbiamo visto che ne hanno anche dei decorso... Ma è anche il decorso post-operatorio che è molto più agevolato. A me capita, per esempio, che quando facciamo questi interventi il paziente con la sternotomia totale sta a letto qualche giorno in più, si riprende rapidamente, ma per fortuna oggi vanno benissimo. Noi li mettiamo normalmente 4-5 giorni dopo l'intervento, quindi... Avete capito bene, eh? Esatto. Non è che lo fate perché li volete buttare fuori per i costi? No, 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 ovviamente vanno in una riabilitazione, però significa che il paziente non è più... Per il resto, lei prima mi incitava le tappe. Circa 24 ore, se tutto va bene, in terapia intensiva. Sì. La mattina dopo l'intervento... Rianimazione o terapia intensiva? Si chiama, è la stessa cosa. La terapia intensiva è un termine... Io ho sempre fatto un distinguo, pensando che la rianimazione fosse più... Terapia intensiva è una rianimazione, la si può chiamare terapia intensiva, o rianimazione è cardiovascolare. Certo. Il paziente sta lì fino alla mattina dopo. Ecco, fino alla mattina... Di solito operate la mattina e la mattina successiva. Perché viene osservato alcune ore. E pensate bene, in seconda giornata il dottor Troise fa alzare i suoi pazienti. Sì, si alzano in seconda giornata. Quello che abbiamo notato è che per esempio il paziente operato in minitoracotomia ha veramente pochissimo, quasi niente dolore. li trovo in seconda giornata davanti all'ascensore che vogliono andare al bar, il che non è... Perché sicuramente... Troppo spavaldi, ma comunque... E capisce che non avere aperto, non avere inciso un osso allo sterno, quindi la stabilità della ferita, c'è... Ma ci sono dei vantaggi. È chiaro, la stessa respirazione è molto meno dolorosa. Ci sono dei vantaggi. Queste sono immagini di pettole che fanno vedere come si lavora. Vedete gli strumenti, vedete le mani, nelle immagini in basso a sinistra, lontane dal campo, gli strumenti molto lunghi, e al monitor in alto si vede... E adesso ci concediamo invece un intervento vero, cioè dove sono proprio le sue mani a lavorare. Diciamo che io non sono un amante, come lei sa, dei video chirurgici, perché ho sempre paura che qualcuno che osserva può rimanere non felicemente colpito da immagini da Dio. Beh sì, diciamo che a volte le cose sono un po' cruenti, questo è un po' lo stesso intervento dell'animazione, però questo è dal vivo... E qui ci siamo evitati proprio tutte le parti impressionanti. Esatto, qui siamo in toracotomia, in approccio mini-invasivo. Voi vedete tutto così grande, ma in realtà questo è ingrandito, perché in realtà noi siamo attraverso un taglio cutaneo di 7-8 centimetri. Stiamo analizzando ed identificando, con questi punti che mettiamo, le zone sane della valvola. Per poi, questo era un prolasso con insufficienza serena. Ma quindi le mani muovono questi strumenti, diciamo così... Sì, strumenti molto lunghi. È chiaro che quindi richiede un certo allenamento. Ecco, adesso stiamo resecando con questo bisturi, che qui sembra normale, ma è un bisturi molto lungo. Perché, ripeto, dobbiamo entrare... Ma è proprio un lavoro di taglia e cuci, in sostanza. Sì, dobbiamo resecare una parte di mitrale che è ridondante per una rottura di corde prolassa. Noi eliminiamo la parte malata e andiamo a ricostruire quella sana. Ma quanto tempo richiede? Ad esempio, proprio questa fase, che è la fase centrale, dove avete proprio attaccato la mitrale, insomma. Quanto richiede, prenderci conto? Beh, può richiedere da un'ora a un'ora e mezza. Questa è la media. La parte centrale dell'intervento. Il tempo centrale. Un intervento che invece nel suo complesso, con la fase preparatoria... 4-5 ore. 4-5 ore. Ci sono dei tempi importanti di preparazione prima di arrivare al tempo centrale. Già il monitoraggio anestesiologico ha una certa durata. Ecco, questo è l'anello, il famoso anello di rinforzo. Che viene applicato. Noi abbiamo già fatto la parte principale, quella di rimettere a posto i lembi valvolari. E questo è interessante. È uno spinginodo. Cioè, per fare i nodi, per fissare l'anello, sarebbe impossibile entrare con la mano in 7 cm. Vedete? Questo spinginodo spinge il filo in basso. Quindi, praticamente, il nodo viene effettuato all'esterno e poi spinto giù da questo strumento. È una cosa fantastica. E quindi qui, diciamo, come posso dire, l'ingegneria meccanica, cioè... Sì, è banale, però... Esatto, vi dà degli strumenti che sono utilissimi, che vi hanno permesso di fare questi progressi. Lei pensi che sarebbe impossibile entrare con le dita in uno spazio così stretto, invece con un banale strumento che ci permette di spingere giù il nodo, noi riusciamo a fare questo. Adesso esistono addirittura, le stiamo introducendo, delle strutturatrici meccaniche, per cui si può, senza nemmeno fare i nodi, prendere i due fili e con questo strumento lui automaticamente ti fa i nodi. Insomma, sono tutti accorgimenti che ci hanno permesso di ricominciare a fare, come dicevo prima, dopo un periodo di stallo, la chirurgia mini-invasiva. Adesso è una realtà. Io non voglio, diciamo, eccedere con l'entusiasmo e quindi illudere chi ci ascolta, ma dal punto di vista, sul piano puramente teorico, forse tutti gli interventi di chirurgia mitralica potrebbero essere un domani effettuati con approccio mini-invasivo. Ancora adesso, ripeto, come ho detto prima, noi facciamo una selezione perché chiaramente il paziente magro, soprattutto se è donna con un seno non molto prorompente, si presta di più di invece un paziente molto robusto con un torace molto profondo. Per esempio, alcune anomalie della cassa toracica non sono favorevolissime. Ma sul piano teorico, se uno, se il chirurgo è molto esperto, ci sono già alcuni... Di questa tecnica. ci sono alcuni centri nel mondo dove fanno l'80-90% di casi. Mentre invece la vostra percentuale si attesta... Ah, attorno a... Adesso siamo intorno al 50%, cioè metà dei pazienti li operiamo, questo vale anche per la valvola ortica in questo momento, li operiamo con approccio mini-invasivo. La valvola ortica di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Esatto, quello però con una mini-sternotomia, cioè anche lì 7-8 cm ma piccolo taglio dello sterno non completo, mentre la nitra l'attraverso una mini-toracotomia. Ecco, qui vedete poi... Questo è interessantissimo. Il risultato anche estetico. Questo è interessantissimo perché vedete per esempio l'uomo rimane un piccolo taglio sopra il capezzolo, nella donna invece l'approccio viene effettuato tutto sotto mammario, per cui... viene nascosto qua. Lì siamo sul tavolo operatorio alla fine, vedete l'incisione sotto la mammella, a distanza di un anno, è la stessa pazienza, a distanza di un anno guardate come praticamente la mammella copre completamente... Esatto, è completamente mimetizzato proprio. Ci sono dei casi, io ho un collega per esempio sloveno che addirittura ha effettuato questi interventi attraverso un approccio periareolare, cioè un'incisione intorno alla zona areolare del capezzolo, che è una cosa abbastanza discutibile perché lì bisogna diciamo evitare la ghiandola mammaria, quindi lascia il tempo che trova, però lì addirittura stiamo parlando quindi di cardiochirurgia con risvolti di chirurgia estetica, ma un'incisione così rimane... Direi che più che accettabile. Rimane più che accettabile e ripeto la cosa importante al di là dell'estetica è che questa paziente oltre al fatto che essendo donna... Ha un decorso post-operatorio molto accelerato insomma e ovviamente non avrà dolore... Diciamo la verità, io ho amici non per valvole ma per i bypass coronarici che hanno subito l'asternotomia e quando si mettono in costume lamentano di non avere più i muscoli in ordine, uomini eh, che si lamentano dell'aspetto estetico. Ah sì, oggi è importante anche questo. In buona salute comunque. Purtroppo ripeto, non dobbiamo illudere i radio... Che sia per tutti. Però già, beh, sono stati fatti dei passi da giganti anche sotto il profilo dei... Sicuramente. Diciamo delle statistiche. Sicuramente. Tenga presente che è una chirurgia, ci tengo a dirlo perché è fondamentale, che non richiede, perché uno tende a esaltare soprattutto in queste trasmissioni di immagini, tende a esaltare il ruolo del chirurgo. Non richiede un'ottima echipa chirurgica ma tutto un contesto particolare. parlo di personale. Infatti io sono favorevole a mandare ancora in onda un po' le immagini dell'altra volta. Certo. Proprio per mettere in risalto come lavorate in, diciamo, stretto contatto, come siete proprio echip, come vi muovete. Strumentare in un intervento del genere è completamente diverso che in un intervento classico. Il ruolo dell'anestesista e rianimatore è fondamentale, ci vogliono fiorfiore di cardiorianimatori perché il monitoraggio anche il rianimatore lavora in condizioni se accade qualcosa che sono diverse da quelle diciamo convenzionali. Certo. Ma sicuramente per esempio attualmente un ruolo importante c'è dal cardiorianimatore per quanto riguarda il cosiddetto la cosiddetta analisi della valvola prima di iniziare l'intervento. Ah, quando fate il test e se funziona bene? No, l'analisi. L'eco-cardiogramma transesofageo quello che accennavo che prima dell'intervento fa un qualunque bravo cardiologo in sala operatoria da noi lo fanno i nostri cardio-anestesisti. Cioè loro molti non lo sanno l'anestesista si occupa solo della parte anestesiosa no, loro sono esperti anche di ecocardiografia transesofagea quindi al tavolo operatorio loro analizzano la valvola prima che noi interveniamo Ma questo avviene solo da voi in poliambulanza? No, no, no avviene in nei centri quelli diciamo più importanti. Però in molti posti ancora necessitano del cardiologo in sala operatoria che dal punto di vista organizzativo non è una cosa da poco perché bisogna che il cardiologo sia disponibile quindi esatto anche per la gestione chiamiamola delle risorse umane invece i nostri sono diventati espertissimi in questo in questo in questo lavoro che è quello dell'analisi ecocardiografica e ci danno tutti gli elementi per cui di solito soprattutto in chirurgia mininvasiva siccome si lavora in condizioni più difficili io chirurgo devo sapere dall'anestesista al transesofageo quello che troverò e lo devo sapere con assoluta certezza perché tenga presente che poi a cuore fermo con la valvola ferma è difficile capire dove è l'anomalia dove devo andare a correggere se non ho avuto prima un'analisi accurata perché voi siete costretti proprio a fermarlo e quindi non vedete quella sorta di animazione che abbiamo visto noi e poi l'esito l'analisi dopo l'intervento il buon esito della plastica per esempio o il buon funzionamento di una protesi applicata bene anche in questo caso medicina amica vi ha dimostrato ampiamente vi ha spiegato ampiamente che cosa succede in sala operatoria e tutto un pochino diciamo tutto anche quello che c'è dietro a questi interventi così sofisticati ecco guardate in questo momento si vede l'anestesista che sta effettuando l'ecocardiografia transesofagia mentre il chirurgo prepara il campo operatorio quindi già sta analizzando e dopo un po' ci dirà che cosa vedete questo è l'apparecchio sono bellissimi ecocardiografi ci dirà che cosa ha quella valvola dove il chirurgo deve andare a guardare e se l'intervento sarà con un approccio mini invasivo capisce che saper tutto prima avere bene le idee chiare di quello che poi troveremo aiuta moltissimo anche queste passeggiate io ricordo di averla incrociata in poliambulanza e con grande rispetto diciamo proprio ammirazione qualcuno mi ha indicato ecco lui il dottor Trovise è il primario certo che nel vostro reparto siete davvero amati perché avete nelle vostre mani la vita dei nostri cari di noi stessi qualche volta diciamolo con sincerità soprattutto il cardiochirurgo tende a farsi prima donna facendosi forte di questo fatto il fatto che si opera al cuore è un organo vitale che il paziente ritiene di aver salvato la vita ci sarà sicuramente ancora in Italia e nel mondo il classico primario del passato guardi le dico una cosa che vanno visto che siamo e così intanto attiviamo le telefonate ci prendiamo questo minuto di conversazione stavo dicendo questo oggi va molto di moda il termine di heart team cioè il concetto di un gruppo che lavora con il paziente al centro insieme quindi cardiologo anestesista cardiochirurgo personale afferente intorno a queste branche in realtà se ne parla molto ma poi spesso nella realtà poco avviene in molti centri io ci credo molto invece io credo che il successo del nostro lavoro oggi a differenza di prima non sta nel il bravo chirurgo il bravo cardiologo sta nel lavorare insieme ragionare intorno al singolo paziente perché ogni situazione è diversa dall'altra sembra noi mettiamo dello stesso calderone tutti quelli con insufficienza vitalica ma come dicevo prima poi il paziente ha delle copatologie ha un'età non è un'altra è uomo è donna l'aspetto estetico quindi dobbiamo ragionare insieme quello che si può fare oggi ci sono metodiche cardiologiche metodiche cardiochirurgiche noi dobbiamo scegliere la miglior cura per quello si chiama la cosiddetta tailored dagli inglesi therapy che sarebbe una terapia ritagliata come il sarto per il singolo paziente grazie vuole rispondere alla prima telefonata siamo pronti volentieri sentiamo che è in linea pronto pronto buonasera buonasera da dove ci segue signora io seguo da Cavaglià provincia di Biella benvenuta ci dica allora io ho una nipotina che attualmente ha 5 anni ed è nata senza valvola mitralica quindi all'età di 3 mesi è stata operata a cuore aperto ora le dicono che va tutto bene per un annetto o due ancora dovrebbe resistere questa protesi e allora volevo chiedere questi interventi di microchirurgia servono anche per i bambini? bella domanda per una nonna quindi ha detto ha parlato di nipotina per una nonna preoccupata siamo in un campo molto particolare della cardiochirurgia da quello che ho capito perché parliamo di cardiopatie congenite e da quello che ho capito cardiopatia congenita anche abbastanza complessa la mia estrazione io vengo dalla cardiochirurgia pediatrica perché ho iniziato la mia carriera come cardiochirurgo pediatra quindi adesso non sto a chiedere esattamente di cosa si tratta ma credo di aver intuito allora è un campo oggi poi nel tempo mi sono occupato di adulti ma posso dire che sono due mestieri completamente diversi le posso dire ma solo perché da dove viene quindi lei? da Bergamo da Bergamo dove è famosa la cardiochirurgia lavoravo col professor Parenzan e ho iniziato come cardiochirurgia pediatrica quindi qua siamo in un campo oggi che è completamente diverso quindi sicuramente quando si parla di cardiopatie congenite quindi bambini che vengono operati così piccoli parlare invece di chirurgia mini invasiva eccetera eccetera direi che no siamo su un altro campo completamente diverso già è mini invasivo il fatto che si opera su bambini così piccoli cioè è già di per sé non è mini invasivo è già una microchirurgia quindi no però l'accesso deve essere sempre quello tradizionale sì in quel caso sì in quel caso sì e poi sono interventi molto complessi ricostruttivi spesso sono credo forse anche nel caso del bambino a cui si riferisce la signora della bambina credo che andrà incontro ad altri interventi spesso la terapia è proprio fatta in più stadi due tre qualche volta anche quattro interventi ecco ma questi pazientini però possono aspirare a una vita normale dipende poi lì da vedere esattamente di che patologia stiamo parlando se siamo nel campo per esempio delle cosiddette ipoplasie del cuore sinistro che spesso sono soggetti che hanno una esatto una mitrale poco sviluppata ma in realtà non è una malattia della mitrale è una malattia di tutta la parte sinistra del cuore beh sono soggetti con una cardiopatia molto grave che oggi in buone mani vanno avanti per molto tempo ma poi insomma bisogna conoscere bene il caso per poter dire certo alla signora quindi mi auguro quindi che sia una di quelle situazioni ma sicuramente oggi si tratta qualunque tipo di cardiopatia e poi è chiaro che comunque abbiamo nel nostro paese anche dei bravi cardiochirurghi infantili assolutamente per cui beh pensi che tanto per dire salutiamo intanto la telespettatrice da Biella grazie grazie tanti tanti auguri per la sua bambina grazie grazie tanto a voi buonasera buonasera tanto per dire il centro da cui provengo io è stato leader nel mondo per il trattamento che era Bergamo negli anni 60 70 nel mondo leader nel mondo per il trattamento delle cardiopatie congenite della prima infanzia pensate poi dopo tutti si sono organizzati è certo che lavorare su questi cuoricini deve essere veramente molto difficile noi ci fermiamo qui uno stacco pubblicitario che sarà anche l'ultimo e prometto che dedicheremo veramente quasi 30 minuti alle telefonate quindi vi aspetto ancora numerosi grazie a tutti grazie a tutti